Un caro saluto da Gianluca Rossi, amici del canale YouTube di qui studio a voi stadio. Qui per parlare naturalmente di una partita rocambolesca, devo dire anche divertentissima visto che in palio non c'era moltissimo, Benfica-Inter 3-3. Curiosamente un 3-3 come quello che avvenne a San Siro l'anno scorso con l'Inter in vantaggio per 3-1 e che improvvisamente incassò due gol dal Benfica, ma quella partita servì poi comunque per andare in semifinale. I Champions Day contro il Milan vinti entrambi i derby e poi in finale a Istanbul. E anche questa volta una squadra era partita in quarta e l'altra dormiva, però questa volta si sono rovesciate le cose e addirittura non era un 3-1 come nel caso dell'Inter, quello dello stadio da Luz, ma era addirittura un 3-0 con tripletta di João Mario. Già da lì, ragazzi, tripletta di João Mario, credo la prima, sicuramente non nell'India, ma credo la prima è unica nella sua carriera, ma magari mi sbaglio. Cioè prendere tre gol da João Mario effettivamente è un fatto abbastanza clamoroso. Accadono al sesto, al tredicesimo e al trentaquattresimo, cioè praticamente in meno di mezz'ora l'Inter va sotto 3-0. Nel primo tempo ci prova solo con Carlos Augusto che impegna Trubin. Considerazione sul primo tempo. 3-0 per il Benfica, ricordo. la considerazione che chiunque fa e della quale io sono ancora convinto anche se dopo è finita 3-3 e in campo sono rimasti, almeno inizialmente per buona parte della gara, gli stessi 10 su 11 che Marotta ci dice sempre, considerateli contitolari e non riserve, ma in realtà, ragazzi, sono riserve. Il turnover mi resta l'idea, al di là del risultato, al di là che in palio. C'era, non c'era nemmeno il primo posto, perché il primo posto noi sappiamo che l'Inter se lo giocherà il 12 dicembre con la Real Sociedad a San Siro, Real Sociedad che tra l'altro, forse un po' a sorpresa, ha pareggiato in casa alla noeta con il Salisburgo. Tra la partita divertentissima, immaginate da 0-3 a 3-3, a un certo punto l'Inter poteva anche vincere all'ultimo secondo con un palo di barella tra i subentrati. Dicevo, la considerazione comunque è la stessa. Turnover massiccio ci stava, visto che la qualificazione ce l'hai già, ma non 10 su 11, perché 10 su 11 ovviamente non si sono trovati. Per la prima mezz'ora non si trovavano, perché un conto è allenarsi insieme, un conto però è ritrovarsi in una partita di Champions League in 10 che non sono abituati a giocare insieme. E quindi le considerazioni all'intervallo ve le potete immaginare. No, ma come si fa a mettere 10? Ma io la faccio lo stesso, con tutto il bene che voglio a Simone Inzaghi. Ragazzi, adesso io non so se si ripresenterà un'occasione del genere, ma cambiarne 10 su 11, perché praticamente di titolare c'era soltanto a Cervi, sì, poi possiamo considerare che De Vrij, se vogliamo, ed Armian giocano spesso, però sono 10 su 11, troppi. La squadra non ci ha capito nulla e infatti è finito 3-0 il primo tempo per il Benfica. A quel punto quello che vi sono detto è, magari con qualche titolare in più, e deve averlo pensato anche Inzaghi, salviamo l'onore, perché dobbiamo assolutamente salvare l'onore. Tra l'altro, diciamo che su questa partita pesava anche il Benfica, che era ancora a 0 punti dopo 4 partite e adesso ne ha 1, dopo questa ne aveva 3, praticamente in cassaforte. Ricordiamo che il Benfica era nell'urna 1 quando ci sono stati i sorteggi di Nyon, cioè doveva essere la squadra più pericolosa del girone e invece il fanalino di coda che cercherà di giocarsi ovviamente adesso a Salisburgo in Austria, il posto in Europa League. Secondo tempo è stato uno spettacolo, ragazzi. Secondo tempo è stato uno spettacolo, perché 3-1, 3-2, nel giro devo dire di pochissimo. Già ci aveva provato Carlos Augusto a impegnare Trubin, Carlos Augusto lo stesso che era andato al tiro concludendo alto in finale di primo tempo. Poi al minuto 51 un corner di Sanchez, la spizzata di Bisse che quindi è un assist per Arnautovic e Arnautovic che va a segno. C'è un controllo del fuorigioco ma Arnautovic si capisce subito che è in posizione regolare. Sette minuti più tardi scende a Cerbi un traversone al centro colpevolmente lasciato solo frattesi al volo di sinistra. Si diventa un gol meraviglioso e siamo 3-2. E a quel punto tra me e me dico vabbè l'onore è salvo. Però a un certo punto Inzaghi decide di mettere dentro qualche titolare in più. Allora ve la faccio breve, dopo parliamo dei cambi. C'è Turam che appena è entrato perché è uno dei cambi e risulta essere decisivo. E' lui che obbliga Otamendi con una delle sue accelerazioni al fallo, calcio di rigore, step on food assolutamente ineccepibile. Il rigore lo trasforma proprio lui, Sanchez. Ehi amico, che fino a quel momento si era visto poco, poco, poco. Devo dire che poi nel finale c'è anche l'espulsione di Antonio Silva al minuto 86. Prima c'era stato un grande miracolo di Audero su Di Maria, che comunque è vero che non è più il giocatore che ricordavamo. Insomma ti fa sempre sfaventare perché è in grado di farti una giocata incredibile quando meno te lo aspetti. E poi l'Inter rischia addirittura di vincere con Barella che colpisce un palo esterno, un palo destro esterno clamoroso al minuto 95. Poteva essere 4-3. Chi segue l'Inter da molto tempo si ricorderà una supercoppa italiana contro la Roma dove l'Inter passò dal 3-0. Al 3-3 poi si andò ai supplementari e c'era figo. in campo che fece una partita meravigliosa e vinse 4-3 e la supercoppa italiana. Insomma ci siamo divertiti. Dobbiamo dire la verità, qualsiasi interista si è divertito. È chiaro che la squadra a un certo punto ha cambiato faccia. Già dal minuto 68 fuori Arnautovic, fuori Darmian, fuori un'impalpabile Klasen e da lì con Quadrado, Barella e Turam, soprattutto Turam che dopo due minuti, tre minuti ha praticamente portato l'Inter al pareggio con la sua azione. Già capisci che è un'altra Inter e alla fine devo dire che anche Inzaghi deve aver avuto il pensiero di provarlo a vincere perché poi ha messo Di Marco al posto di De Vrij e nel finale ha richiamato anche Sanchez per mettere Lautaro che è un paio di cosine e insomma ha provato a farle un colpo di testa in area. Poi il Benfica è in dieci uomini e a quel punto ovviamente tutta la tensione è andata sul Benfica. Però è stato dai diciamolo un 3-3 spettacolare, una cosa un po' da PlayStation, forse perché in palio perlomeno per l'Inter non c'era comunque nulla perché l'Inter è già qualificato e sa benissimo che il primo posto con qualsiasi risultato avrebbe dovuto ottenerlo nell'ultima a San Siro contro la Real Sociedad. E però ti diverti di più se non c'è qualcosa in cambio. Resta a mio giudizio l'idea che comunque come per qualsiasi squadra al di là di poche eccezioni un conto sono i titolari, un altro sono le riserve e metterne dieci tutte insieme in una partita di Champions dove magari appunto non ci sono neanche grandissime motivazioni, hai pagato Dazio, hai pagato Dazio, triplo Dazio nei confronti di João Mario e comunque è stato veramente divertente. Quindi magari sull'uso del turnover che è un'arma a doppio taglio magari limitiamolo un po' di più, però per il resto non posso che fare i complimenti a tutta la squadra e comunque anche alla seconda linea perché alla fine le partite vanno a riequilibrarla, le seconde linee, tutto sommato a riaprirla, le stesse che se erano complicate, il discorso che deve aver fatto Inzaghi negli spogliettori deve essere molto semplice. Voi vi siete messi in questa situazione, adesso voi vi tirate fuori, poi magari però vedo io con i cambi dalla panchina. Altra cosa positiva, le punte di riserva, Arnauto vice Sanchez, assegno entrambe e insomma questo non è male. Amici di Quistudio Vestadio, vi rinnovo l'invito naturalmente ad iscrivervi al nostro canale, un saluto da Gianluca Rossi, questa è stata la spettacolare Benfica Inter 3 a 3. Ciao a tutti.